L'Istituto Alberghiero di Marconia costituisce un punto di riferimento fondamentale per il territorio della costa ionica e della bassa collina materana per la formazione di figure professionali legate al settore turistico, ristorativo e alberghiero. Il percorso di studi consente agli studenti di ottenere una solida cultura di base e una formazione tecnica qualificata e specializzata. Il percorso di studi prevede tre indirizzi specifici. Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica. Dopo il conseguimento del diploma professionale quinquennale lo studente potrà accedere direttamente al mondo del lavoro o iscriversi a qualunque facoltà universitaria. Il fiore all'occhiello dell'Istituto è rappresentato dai laboratori, spazi di apprendimento in cui i ragazzi acquisiscono le conoscenze pratiche e migliorano specifiche abilità indispensabili per lo svolgimento della loro futura professione. Oltre ai laboratori enogastronomici dell'Istituto sono presenti aule multimediali e laboratori informatici che offrono una didattica sempre più attenta alle esigenze della contemporaneità. Presto sarà disponibile per gli studenti una struttura totalmente nuova e all'avanguardia che fornirà strumenti sempre più efficaci per la loro formazione. L'Istituto ha in attivo numerose collaborazioni con enti, associazioni di categoria ed aziende presenti sul territorio regionale e nazionale, indispensabile per la formazione professionalizzante degli studenti. L'Istituto inoltre partecipa alla rete nazionale. degli istituti alberghieri Renaia. Completano il percorso i progetti Erasmus e di Scuola Solidale. Siamo il fortunato. Dai vita al tuo futuro. Grazie. Grazie.